Eravamo in primavera del 1944. Io, con altri compagni, eravamo dalle parti di Castelnuovo, sopra Ceva, come caserma. Allora un giorno abbiamo deciso di portarsi a Cengio, nello stabilimento per ricoperare il sale, che a quei tempi, il sale nelle famiglie, qui nessuno non ne aveva più. Allora, venendo giù, siamo passati io a piedi vicino alla casa dove abitava una signorina, che si chiamava Rozzo Maria. Ho conosciuto quella ragazza, e sa com'è da giovane, uno ha subito il pensiero di quella ragazza. Comunque siamo andati, abbiamo ricoperato il sale, e ne abbiamo portato un po' tutti i paesi di questo sale. Poi, ritornando nuovamente altre volte giù, quando dovevamo venire a Cengio, passavamo sempre vicino alla sua abitazione. Io cercavo sempre di vedere questa ragazza. Tant'è vero che passati i giorni, sono passati gli appuntamenti, ci siamo conosciuti molto bene, finita la guerra, ci siamo poi fidanzati. Cosa ti ricordi tu invece? Io mi ricordo quando lui è passato lì, da partigiano, che poverino, mi faceva anche pena, perché erano mal vestiti, avevano fame, e allora li invitavamo in casa, le facevo qualcosa da mangiare. Mia madre mi diceva, pensa a tuo fratello che è in Russia, che non è più tornato, e dalle da mangiare a sti ragazzi che noi ne abbiamo. Le facevo la minestra, le facevo la pasta asciutta, arrivavo lì, sbaffavano. Intanto che, dai, dai, l'abbiamo portata fino al 1948. Il 48, il 28 agosto, ci siamo sposati. Era finita la guerra. Finita la guerra, tutto. Un momento, non corriamo troppo, però vi sarete dichiarati quando? Prima della fine della guerra o dopo? Prima. Allora raccontateci un po' quello, insomma, quando è che vi siete dichiarati? Dove eravate? Eh, eravamo ai pieni, dove lei abitava. Eh, sì. Lui è venuto lì, quando passava, passava a trovarci, c'era mia mamma perché il mio papà era già morto, perché il mio fratello era andato in Russia e non era più tornato, mio padre dal dispiacere, povero uomo. Eh, mancato anche lui. Mancato anche lui, giovane, 60 anni. Poi, piano piano, siamo arrivati, posso continuare così, siamo arrivati al 1948, il 28 agosto, avevamo deciso, ci siamo sposati. Senza manco una lira. Quando c'è l'amore. Insomma, dove lo siete dato, sto primo bacio? Il primo bacio. Eh, ce lo siamo dati in campagna, vicino alla casa. In campagna, dove lei abitava. Vicino alla casa. Sempre, eh, con l'occhio vigile, che non ci vedevano i familiari, eh. Sempre tutto di nascosto. Eh, sì. E come fanno tutti, cioè i giovani di quei tempi, perché adesso non lo fanno più. Vado a prenderci una sedia. Non c'è più ritegno oggi? No. No, è ben diverso. Eh, siamo arrivati che dopo sei anni, sette anni, abbiamo avuto una figlia. E dopo dodici, un maschio. Perfetto. Che sono tuttora... I nostri tesori. Che la figlia, ormai purtroppo povera donna, è rimasta vedova del novanta. E il figlio si è sposato, che non sono tanti anni, è il papà di una bambina. La Sofia. Ed è... Un tesoro. Ed è un bravo ragazzo, come tutti i figli dei papà e mamma. E dove abbiamo poi avuto i combattimenti, lì, un giorno siamo andati a Carrù, pomeriggio, io e altri due partigiani, tutti e tre armati di Sten. E normalmente passavamo in un bar dove c'era una bella ragazza, andavamo a fare il giro. E uno qui di questi miei amici mi dice, senti Nando, facciamo il giro, non passiamo di là, passiamo dalla stazione, andiamo laggiù dove fanno il burro, andiamo a prendere un po' di burro. E vabbè, arrivati a metà strada, era una strada con sulla sinistra un muro alto che non si poteva scappare. E sulla destra c'era come una ripa e un mezzo rettano che andava giù, giù in quel paese della stazione di Carrù. Arrivati a metà strada, eravamo nell'imbrunire, non era più quel bel chiaro. Un bel momento, c'è mezza curva, ti vediamo una fila di repubblicani che vengono su e dicono a noi e ragazzi, dove sono i partigiani? Ci hanno preso per fascisti, che eravamo vestiti con teli da tenda, anche noi. Sono lì sotto, sono scappati tutti lì. Allora questo qual primo ci dice, ragazzi andiamo, andiamo a prenderli. Si sono girati, come loro si sono girati, tre stang che aprivano il fuoco in quella colonna di fascisti. Li vedevamo cadere come birrilli. Lei pensa, un caricatore di 30 colpi per uno, sparati lì dentro. Però finito il caricatore, cambiato, siamo andati a finire. Una poca ruota a piedi, eh, che non lo sapevamo che giù basso c'erano loro. E poi lì siamo poi rientrati al nostro distaccamento. Eccolo. 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 Eccolo.